Con il convegno ieri e oggi di Vittorio, i diritti di sempre, ha preso il via a Cerignola il progetto finanziato dalla Regione Puglia sul recupero del murales Giuseppe Di Vittorio e la condizione del mezzogiorno a cura degli artisti Rocco Falciano e Ettore De Concilis. Questo è il bozzetto in scala 1 a 10 del murale dedicato a Di Vittorio. Qui si vede esattamente una massa contadina e operaia e il ritratto di Di Vittorio sulla destra. Si tratta di un omaggio che fu fatto a questo grande cerignolese, a questo grande italiano, una delle figure più importanti del nostro Novecento. L'opera era alta 12 metri, subì un attentato negli anni 70, un attentato che danneggiò molto questo pannello e anche gli altri. Il compito di questa amministrazione io lo apprezzo, sta cercando di ridare la luce a questo lavoro. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato con il coinvolgimento del terzo settore. Rino Pezzano, assessore politiche sociali. Che significato assume tutto ciò? Assume un significato importante e storico per la nostra città. Avevamo preso un impegno in campagna elettorale, lo stiamo mantenendo, cioè quello di riconsegnare un monumento che ha rappresentato la storia della nostra città a Cerignola. Lo faremo il 3 novembre, quando ricorreranno i 60 anni dalla morte di Giuseppe Di Vittorio. Inizia oggi un percorso di accompagnamento a quella data che prevederà una serie di eventi e una serie di contenuti che naturalmente daranno lustro alla figura di Giuseppe Di Vittorio. Sindaco, nella Tana di Di Vittorio, uno che ha passati politici sicuramente diversi da quelli di Di Vittorio, come la mettiamo? Beh, visto che mi stuzzichi su questa curiosità, quando il murale fu inaugurato, quindi fu collocato la prima volta, fu oggetto dopo qualche giorno di un atto di peppismo. In buone sostanze contro il murale furono sparati alcuni colpi di pistola. I sospettati furono Franco Metta e Salvatore Tatarella, ovviamente non c'entravamo nulla, però lo ricordavo all'avvocato Lepore, al capogruppo della Cicogna in Consiglio Comunale, il paradosso. Poi dopo Metta, lo stesso Metta, sindaco, insieme con tanti altri che hanno collaborato, va a recuperare quest'opera d'arte, ma al di là adesso delle battute, delle curiosità, che poi però sono anche divertenti, interessanti. Credo che abbiamo fatto, stiamo facendo un'opera importante, recuperare un'opera d'arte, recuperare un'opera che ricorda nella maniera migliore il nostro concittadino di Vittorio.